Ok, vediamo se sarà una ninja indiana o giocherà... no, è stata giocata a cavallo F3. Ok, ok, qua siamo ancora all'inizio, andiamo a vedere la Duda. Stessa posizione, wow! Le prime due sembrano uguali, Sabino. È abbastanza popolare come apertura, succederà qualcosa adesso. Vediamo chi per primo varierà. E sono identiche, vero? Sì. Ok, qua c'è stata un alfere P4, vediamo se si ripeterà. Uguale.